Radio Radicale, queste sono le dichiarazioni del coordinatore di Forza Italia Antonio Tagliani, i giornalisti nella sala stampa allestita qui a Montecitorio, nella sala Colletti, nel palazzo dei gruppi parlamentari. Ascoltiamo che cosa ha detto sul risultato di Forza Italia e sulla premiership di Giorgia Meloni. Queste sono le sue dichiarazioni.